amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati sono felice di annunciarvi il secondo evento dal vivo del vaso di pandora domenica 14 maggio saranno con tutti voi che avrete deciso chi di voi deciderà di partecipare saranno con noi e con voi grandissimi ospiti giorgio bianchi de mostenes floros paolo borgognone arnaldo vitangeli nadia ottaviani elisabetta frezza nicolai lilin giorgia campana fabio sarzi amadei professore pierfrancesco belli trovate il link per partecipare e per prenotare il biglietto nel testo sotto questo video vi ricordo che per altri due giorni c'è la prevendita per acquistare i biglietti con lo sconto avete già tutti visto è sempre molto atteso che il vaso di pandora in collegamento dagli stati uniti dalla florida in particolare roberto mazzoni benvenuto roberto salve a tutti ben trovati eccoci qui allora guarda ti faccio io la domanda adesso direttamente non introduco l'argomento ma domando a te qual è l'argomento più importante in questo momento la tematica più importante negli stati uniti beh direi in questo momento sicuramente l'indagine su donald trump praticamente è stata costruita questa indagine politica che stando agli stessi esperti di sinistra avvocati esperti costituzionalisti non ha sostanza in buona sostanza in pratica è stato accusato di un crimine che non esiste da parte di un magistrato che non ha la giurisdizione per poterlo fare perché l'ha accusato di un crimine federale e questo è un magistrato di new york sostanzialmente e di una vicenda che già oltre i termini quindi non potrebbe neanche essere ripresa che già stata esaminata da altri magistrati e da altri funzionari pubblici quindi la questione anche da parte degli stessi commentatori sui classici canali mainstream di sinistra è stata ricevuta con una discreta delusione si aspettavano qualcosa di più robusto però è partita la questione ha generato un'enorme risposta del pubblico a sostegno di trump quindi quasi quasi sembra che sia stata un'operazione che per favorire la candidatura di trump piuttosto che il contrario di certo il partito repubblicano si è stretto più più compatto intorno a trump come candidato potenziale per il presidenziale l'anno prossimo ma direi che la cosa più importante di tutte che ormai agli americani è chiaro non soltanto agli elettori di trump che hanno visto l'evoluzione delle presidenziali del 2020 ma anche a molti altri americani che magari non hanno votato per lui che il sistema americano ormai è in crisi crisi molto seria perché nel momento in cui ci sono questi processi costruiti su niente e sono processi politici in stile sovietico vuol dire che la repubblica così come la conoscevamo ormai è andata siamo di fronte a un regime differente origine che a quanto pare anche a macchia di lopardo perché abbiamo stati che si stanno muovendo in modo totalmente indipendente e contraddittorio contrastante abbiamo stati contro multinazionali ad esempio il conflitto tra florida e disney dove disney uscirà comunque perdente perché è assurdo che disney pensi di combattere contro uno stato e abbiamo quindi una un'evoluzione da cui non c'è ritorno ossia stati uniti come riconoscevamo non ci sono più adesso vedremo tutti stanno cercando di capire ne approfitto proprio della tua visione diciamo dal di dentro secondo te verso dove stiamo andando stanno andando gli stati uniti verso una polverizzazione quindi ci saranno stati sempre più indipendenti quindi tra di loro rispetto al all'amministrazione centrale che a washington quindi assolutamente anche perché l'amministrazione centrale cercherà in tutti i modi di concentrare ancora più potere nelle proprie mani e così facendo incentiverà ancora di più gli stati a resistere e a fuggire a creare non solo barriere ma creare le proprie situazioni indipendenti anche dal punto di vista esattamente economico abbiamo visto per esempio de santis che in qualche modo è all'avanguardia essendo anche il candidato fantasma alternativo a trump che ha già annunciato che in florida avrà proposta una legge verrà approvata una legge della florida che vieterà l'uso delle valute digitali centralizzate quindi il dollaro digitale in florida non potrà essere usato e questo crea una spaccatura importante a questo punto che succede la florida batte la moneta propria oppure adotta bitcoin come potrebbe essere la soluzione più probabile nel momento in cui non c'è più un controllo finanziario centralizzato da parte dello stato federale il sistema federale stesso si si smembra si va a pezzi e d'altro canto vediamo che ormai il governo di washington fuori controllo nel senso che la spesa enorme che viene sostenuta dagli americani non produce dei risultati dei benefici comparabili anzi più si va avanti peggio la situazione diventa è vero che c'è una certa certo sforzo di riformare il congresso quindi il parlamento centrale abbiamo visto una ventina di parlamentari in questo caso nel partito repubblicano che hanno cominciato a creare una una leva molto importante sul resto del partito costringendo il ripristino di alcune regole che non state abbandonate come per esempio il fatto che le nuove leggi debbano essere discusse in aula e che ci debba essere il tempo poterle discutere oltre che di avere un'analisi di bilancio perché la gestione della borsa dipende dalla camera dei deputati negli stati uniti quindi vogliono che il bilancio venga revisionato ogni tre mesi ci siano delle approvazioni trimestrali non a queste leggi omnibus di 4.000 pagine per tutto e tutti in cui c'è dentro ogni genere di beneficio per lobbisti di vario tipo ma che agli americani non portano nessun beneficio quindi si sta andando in quella direzione e che è positivo però questo anche infatti inizia di più il fatto che gli stati avranno orientamenti diversi gli stati che sono prevalentemente liberali cosiddetti il partito democratico cercheranno di consolidare la propria relazione con washington e assorbire sempre di più possibilmente soldi dei contribuenti gli stati invece modello florida cercano di essere indipendenti visto che comunque hanno un surplus nella gestione pubblica e sono in grado di mantenersi pur non avendo tasse sulle entrate quindi provendo molte meno tasse rispetto a stati come new york o la california hanno un surplus e quindi possono offrire servizi decisamente migliori con una gestione molto più efficiente e vediamo il flusso ormai migratorio è enorme negli stati uniti già iniziata una discreta crisi immobiliare ad esempio in california san francesco in particolare in tutta la costa occidentale new york mentre invece cosa consiste questa questa crisi immobiliare e roberto beh i prezzi cominciano a scendere e cominciano esserci i foreclosure cominciano a facciarsi la gente non riesce più a pagare i mutui quindi ci si aspetta un'ondata di appunto foreclosure oltre che probabilmente la chiusura di una serie di banche soprattutto quelle locali direi che in questo caso particolare la crisi verrà del mercato commerciale ossia dei palazzi uffici a san francisco il 50 per cento dei palazzi uffici sono più sono vuoti lo stesso vale per new york quindi questa è una situazione in cui che non è sostenibile siccome molte banche soprattutto banche intermedie hanno investito parecchio sul sul finanziamento di questo tipo di progetti commerciali falliranno e verranno assorbita delle banche più grandi questo ormai è un evento atteso pronosticato che avrà un impatto molto maggiore della crisi immobiliare del 2008 perché stiamo parlando di foreclosure molto più importanti qui non è la singola casa da 200 200 mila dollari che va in foreclosure che va in pignoramento ma è un palazzo uffici ma di diversi miliardi quindi quello è ormai atteso ed è ulteriormente esasperato dall'aumento dei tassi di interesse da parte della federa riserva federa riserva che ha dichiarato recentemente che continuerà probabilmente aumentare o comunque non li diminuirà e quindi acquirà questo problema che abbiamo già visto manifestarsi col fallimento della silicon valley bank e quindi inizia inizia prosegue la corsa verso la valuta digitale centralizzata che dal punto di vista della federa riserva è l'unica risposta unica risposta che tra l'altro è coordinata perché hanno fatto l'annuncio recentemente col fondo monetario internazionale che è già pronta la sua valuta internazionale digitalizzata e la bank of international settlement la banca centrale delle banche centrali che si trova in svizzera ha già la rete digitale per le valute digitali centralizzate di tutto il mondo in modo che possono collegarsi possono integrarsi bisogna capire come si metteranno d'accordo con i cinesi però il punto è l'infrastruttura c'è poi sicuramente ci sono ancora dei problemi tecnici risolve sono dei premi politici risolve ad esempio chi comanda se sono i cinesi piuttosto che gli svizzi piuttosto che gli americani questo chi 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 sarà però rimane il fatto che ormai siamo lanciati in quella direzione e non si torna indietro anche perché non c'è non c'è una marcia indietro quindi in questo scenario naturalmente l'aspetto economico diventa sempre più importante gli americani stanno prelevando a man bassa i soldi dalle banche anche dalle banche più grandi perché non si fidano del fatto e cosa ne cosa ne fanno gli americani comprano titoli del tesoro comprano bitcoin bitcoin esplose che è asciuto del 40 per cento in un mese e comprano altri strumenti finanziari con scadenza ravvicinata che possono essere facilmente convertiti in contante con loro anche comprano anche oro sì però non così tanto e più perché loro comunque a loro ecco le banche centrali stanno comprando oro ma le banche centrali leggevo proprio la notizia ieri che la turchia sta comprando tantissimo oro la la cina ne sta comprando tantissimo cinesi russi tenete presente che la cina oltre a quello che compra che poi è una frazione dichiarano una frazione di quello che effettivamente acquista i cinesi stanno incamerando tutto l'oro estratto in cina che non è poco lo stesso per i russi quindi non soltanto stanno comprando tutto l'oro che riescono a procurarsi in giro sul mercato ma anche incamerano gran parte dell'oro prodotto all'interno del territorio è una corsa all'oro per tutte le banche centrali questo vi fa capire quale può essere il futuro del dollaro barra euro barra sterlina e compagnia o dello yuan medesimo ossia sono consapevoli del fatto che ci sarà il botto e non sanno esattamente come sarà quando sarà chi sarà il primo a cadere anche se diciamo probabilmente il dollaro sarà l'ultimo a cadere vista la dimensione la massa il volano l'effetto volano che c'è a livello mondiale e quindi si preparano ad avere la valuta digitale centralizzata perché quella sarà il salvataggio sarà il salvataggio la ciambella di salvataggio la ciambella ecco esattamente non specificiamo che tipo sì 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 certo la ciambella di salvataggio probabilmente all'ultimo momento insomma l'ultimo secondo prima di una di probabilmente nel weekend passato il venerdì tra sabato e domenica e lunedì ops certo senti e per quanto riguarda gli americani come stanno vivendo hanno una percezione la sono coinvolti in questo senso nella vista le problematiche appunto che ci sono e sulla questione del conflitto ucraino cioè che grado di accoglienza hanno ancora si interessano cioè comunque un dispendio non dispendio economico non da parte dell'amministrazione biden guarda l'ultimo sondaggio che risale qualche mese fa diceva che 70 per cento degli americani era contrario quindi voleva che l'america si sganciasse si estraneasse anche perché sanno bene ormai hanno capito che se l'america si sgancia e smette di finanziare kiev il conflitto si ferma finisce è chiaro che questo punto i russi consolideranno le proprie conquiste però a questo punto non si vede alternativa nel senso non di certo gli ucraini non prevedono di fare una nuova controffensiva ma ha scasse possibilità di successo e anche qualora conquistassero un po di terreno abbiamo visto che i russi sono più che disponibili a cedere terreno pur di risparmiare uomini per poi riconquistarlo dopo quindi gli ucraini hanno già bruciato tre eserciti adesso stanno costruendo il quarto non ci sarà il quinto anche perché la nato ha finito le munizioni tutto quello che vanno le hanno mandate gli americani non sono in grado di produrne di nuove ci verranno due anni e mezzo prima che ricostruiscano riserve sufficienti per poter rifornire l'ucraina e in generale gli americani hanno capito che il governo ha mentito ampiamente sulla questione abbiamo visto l'emergere degli ultimi documenti dal pentagono che in pratica dimostrano cose che francamente io nei miei video è già un po che dico e altri e naturalmente non so tanto io su quelle che sono le effettive perdite degli ucraini su quelle che sono l'effettivo andamento della guerra ormai è evidente che l'ucraina abbiano possibile pochissime possibilità di non soltanto vincere che direi che se fuori questione ma anche riconquistare terreno e che a questo punto avrebbe molto senso cercare di trovare un accordo un accordo di pace prima che i russi lancino la loro offensiva i russi stanno aspettando la controffensiva degli ucraini che è attesa secondo questi documenti che abbiamo visto tra la fine di aprile e maggio ma ci sarà veramente non sappiamo perché allora gli ucraini nel frattempo controffensiva poi roberto c'è controffensiva e controffensiva anche poi no c'è la con cioè come dire ci sono vari livelli non è che ci può essere una grande controffensiva ma anche una controffensiva poco più che simbolica ecco quindi è quello anche da vedere sì allora stando le cifre gli ucraini sono usciti a mettere insieme altri 200 mila uomini quindi non è una forza proprio piccola possono avere un certo impatto potrebbero conquistare terreno nell'area di zaparogia e arrivare forse fino quasi a melitopol quindi sul sul martazov il la prospettiva che arrivino in cremia è assolutamente fuori discussione il punto è che questa offensiva porterà a un livello di caduti dal fronte ucraino molto superiore a quello visto visto sinora per per due motivi il primo è che le attrezzature che le sono state fornite sono inadeguate quindi non hanno abbastanza carri armati non abbastanza mezzi blindati soprattutto non hanno copertura aerea che è necessaria nella guerra moderna per poter far operare i mezzi blindati in più i russi con una campagna missilistica mirata condotta negli ultimi mesi oltre aver colpito il sistema elettrico che serviva più che altro per capire dove fossero le posizioni degli ucraini le posizioni antiaeree e per far sì che gli ucraini spendessero e bruciassero missili antiaerei ha permesso ai russi quindi identificare posizione batterie antiaerea batterie antiaerea che erano state fornite dai sovietici allora dal punto di vista tecnologico i sovietici prima e i russi oggi hanno il miglior sistema antiaereo al mondo non esiste nulla che possa batterlo e abbatte qualsiasi velivolo in circolazione a meno che naturalmente sia sovietico sia schermato da queste fatti però persino per i sovietici era difficile sopravvivere in aria e sconfiggere il scusate persino per i russi era difficile sconfiggere il sistema sovietico perché fosse di precedente generazione perché era così efficiente da essere capace di abbattere qualsiasi cosa lo hanno distrutto sistematicamente e oggi vediamo che i russi stanno usando l'agliazione in modo pesante cosa che prima non si permettevano di fare quindi hanno tirato fuori i bombardieri stanno sganciando bombe da una tonnellata una tonnellata e mezzo che è ben diverso rispetto a lanciare colpi di mortaio piuttosto che di cannone in più abbiamo visto che in russa stanno preparando anche bombe da 19 tonnellate quindi una bomba da 19 tonnellate distrugge un intero ponte con un solo colpo di conseguenza per gli ucraini si prevede un massacro un massacro completo totale anche qualora come hanno fatto i russi gli permettessero di conquistare territorio attirandoli all'interno di una trappola una volta che si trovano alla trappola di quei 200 mila non so quanti ne sopravviverebbero oggi abbiamo cifre di morti che sono agghiaccianti quindi si arriva fino a 320 mila come stima da verificare però sembra che i documenti presentati appunto dall'interno del pentagono giustifichino questo tipo di stime però il problema fondamentale di questi documenti che sono usciti adesso torno alla parte americana ecco esatto perché questo diciamo dopo dopo la tematica di trump della messa in stato d'accusa il pentagon leaks e l'altro argomento non rimane l'altro argomento e sono collegati anche perché dopo che si è visto quello che è successo a trump chiaramente molte persone interni stati uniti hanno cominciato a constatare il fatto innegabile che gli stati uniti sono un punto di svolta non si torna indietro non c'è non è dire abbiamo sbagliato no non è un percorso a senso unico se quindi questa l'uscita di questi documenti in questo particolare momento che tra l'altro rivelano anche situazioni piuttosto complicate per gli ucraini e che mettono gli ucraini in difficoltà ora non abbiamo dubbi che i russi già conoscessero gran parte di queste informazioni però questo rivela anche i rapporti tra gli stati uniti e altri alleati rivela quello che l'effettiva capacità di rifornimento della nato degli stati uniti insomma dipinge uno scenario veramente disastroso e soprattutto fa capire che le forze armate stati unitensi non sono assolutamente in grado di affrontare un confronto con la cina e qui ci porta a una secondo me a un'osservazione importante i pentagon papers che sono stati pubblicati negli anni sessanta furono pubblicati diciamo dopo la guerra di vietnam durante la guerra di vietnam furono pubblicati nel momento in cui la forze armate generali americane dell'epoca volevano che il presidente lyndon johnson mettesse a disposizione altre 300 mila soldati per espandere la guerra in vietnam guerra che si sapeva almeno all'interno della casa bianca all'interno del pentagono che era già persa cosa significava però mettere in 300 mila uomini significava effettivamente poter invadere il vietnam portandosi più a nord però a questo punto arrivare troppo vicino ai cinesi e quindi scatenare l'intervento dei cinesi vi ricordo che i cinesi hanno già combattuto contro gli americani nella guerra in corea quando gli americani hanno invaso la corea del nord perché gli americani avevano invaso la corea del nord i cinesi hanno visto questo evento come pericoloso per se stessi e hanno messo in campo una notevole quantità di uomini che hanno ricacciato gli americani sul confine con la corea del sud e lì è finita la guerra quindi gli americani hanno già perso con i cinesi stiamo parlando in quel caso degli anni 50 quindi non con una cina armata come è armata oggi i pentagon papers che oggi vengono attribuiti a un a un ausiliario ecco volevo chiederti questo texera no questo militare le prime armi primi ai propri gradi base insomma no della gerarchia 21 21 anni come che senso ha questa cosa cioè è realistico è assolutamente no assolutamente no tutti gli esperti della cia consultati che non sono nella c in questo momento perché sono liberi di parlare dicono che è totalmente assurdo vale a dire che i documenti forniti che vengono dalla cia perché nel pacchetto non ci sono solo documenti che vengono a pentagono ce ne sono anche alcuni che provengono dalla cia è impossibile che una persona di quel livello li abbia ricevuti gli unici se ne stavano zitti e non davano formalmente colpa a questo texera forse era meglio insomma tutto sommato forse era meglio però si capisce che stanno cercando di perché poi ti collego anche a quello che l'evoluzione del vietnam perché stiamo assistendo al scenario identico della guerra vietnam allora quando successe uscirono i pentagon papers naturalmente i 300 mila uomini non vennero messi a disposizione e si determinò la fine della guerra che poi venne conclusa un po dopo però ormai si capiva che era finita la festa e lyndon johnson che era presidente al momento lyndon johnson era diventato presidente perché avevano ucciso john fitch era kennedy era il suo vice quindi lyndon johnson dichiarò che non sarebbe più ricandidato quindi quella fu la fine della presidenza lyndon johnson in una situazione analoga parallelamente dovremmo vedere quindi una fine della presidenza biden facendo i debiti i debiti paralleli che probabilmente si si verificherà a prescindere anche probabilmente vabbè comunque è probabile comunque il texera l'hanno tirato fuori perché gli serviva un campo respiratorio era evidente e anche per mettere la tacera un po' l'intera vicenda però in realtà hanno hanno commesso un'euro di valutazione con l'ordinanza dove nessuno ci crede voglio dire questo è un ragazzo di 21 anni che è un ausiliario non è neanche non fa neanche parte delle forze attive è un riservista non so se mi spiego è un portaborse è qualcuno che fa le commissioni porta in giro cose non è realista non è proprio realistico no anche perché non sta in piedi nessun modo no anche perché gli esperti hanno dichiarato in modo inequivocabile che alcuni di questi documenti erano inaccessibili salvo che al presidente alla casa bianca al direttore della national intelligence quindi di nuovo la casa bianca al direttore che coartina tutte le attività di intelligence a alcuni livelli molto elevati della cia oltre che al cifo staff quindi al capo di stato maggiore dell'esercito ok quindi questi questi documenti vengono da qualcuno molto in alto qualcuno o nella casa bianca o nel pentagono molto in alto molto molto in alto qual è lo scopo e per fermare questa follia perché si rendono conto che se siamo arrivati al punto di costruire un un processo fasulo poi lasciamo perdere trap con tutti i suoi difetti e tutte le discorsi possiamo fare e del fatto che uno possa o meno essere favorevole a lui come persona però è assurdo l'intero caso è talmente assurdo che persino i suoi avversari dicono che non è credibile quindi nel momento in cui si arriva a giocare il tutto per tutto vuol dire che sia proprio pronti a giocare tutto per tutto e siccome siamo in un clima di tensione elevatissimo con la russia e con la cina potenzialmente qua ci scappa effettivamente un conflitto molto più vasto pericoloso quindi qualcuno ha detto no a sto punto così come all'epoca del vietnam si disse no non possiamo chiamare in gioco i cinesi perché se no ci facciamo male più molto più di quanto ci siamo già fatti in questo caso è moltiplicato per mille e quindi qualcuno o più di più persone hanno hanno deciso di fare questo far uscire questi documenti e poi texera c'è cascato cioè è stato usato come lo scopo roberto secondo te qual è quello di creare i presupposti per una exit strategy sì è di fatto prevenire perché ormai lo vediamo assoluto diverse udienze anche in congresso da parte parlamentari alcuni dei venti famosi che hanno spinto le riforme nei confronti di alti pezzi grossi del pentagono sulla cina in particolare in cui dicono scusate la cina dispone di missili ipersonici noi non siamo in grado di antigenetali giusto giusto bene allora cosa ci facciamo noi con le nostre portaerei nel mare della cina che possono essere abbattute da un solo di questo missile diteci se se ci sbagliamo ma a questo punto sono semplicemente dei bersagli giusto giusto quindi in buona sostanza oggi gli americani sono impotenti nei confronti della cina se si mettessero in un conflitto diretto a parte l'unica possibilità che hanno è bloccare l'accesso alle coste di tohwan tramite la loro flotta disemergibile senti però scusami un aspetto vorrei introdurre in questo senso però gli americani hanno mandato alcuni non tanti una proprio credo alcune decine di soldati appunto in taiwan con sembra il motivo di istruire i soldati taiwanesi sì è appunto proprio quello che vogliono metterci fermo perché questo è l'inizio è così che comincia la guerra in vietnam come è cominciata la guerra in vietnam è stata cominciata tra i francesi poi quando i francesi hanno cominciato a perdere gli americani hanno mandato degli istruttori poi dopo gli istruttori hanno mandato più istruttori e hanno mandato le truppe speciali ha mandato la cia poi dopo la cia e le truppe speciali ha mandato l'esercito quindi è un'evoluzione che abbiamo già visto è la stessa in ucraina è tale quale quindi il messaggio da parte di qualcuno all'interno del pentagono qualcuno all'interno della cia qualcuno all'interno della casa bianca tutti e tre e dire basta dobbiamo fermarci perché qui non possiamo andare avanti così e questo naturalmente ha dimostrato aspettivamente anche a coloro che hanno votato per joe biden del fatto che quello che viene dalla casa bianca del tutto falso è stato totalmente falsato riguardo alla guerra in ucraina che non c'è nessuna possibilità di vincere gli americani possono solo perdere e una coinvolgimento diretto sarebbe disastroso e quindi è il momento di tirarsene fuori non ci sarà un disimpegno immediato perché ormai tanta gente ha messo la faccia ci sono tante cose in movimento e sappiamo come vanno però il disimpegno credo che sia inevitabile anche perché non finisce qui nel senso che se non c'è una marcia se non si comincia a fare marcia indietro usciranno altri documenti più compromettenti anche perché nel famoso caso di vietnam alla fine si scoprì chi era la fonte della della fuga di notizie ed era il numero 3 del pentagono alla sua morte venne fuori questo fatto recentemente nel 2019 credo che sia morto e nessuno aveva mai sospettato che lui potesse essere la fonte quindi stiamo parlando di qualcuno veramente molto 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 in alto che ha deciso che la la giosta deve fermarsi deve fermarsi certo senti e volevo tornare un attimo nella ci abbiamo verso la conclusione della nostra della nostra intervista dei nostri aggiornamenti tuoi preziosi dagli stati uniti e la tempistica anche con cui inizierà il processo di trump no perché ci avviciniamo verso delle elezioni che ovviamente saranno dirimenti perché chiaramente qui ci va proprio della di una visione anche no per quanto riguarda a partire proprio dal conflitto in in ucraina cioè il timing la tempistica è molto cioè voglio dire parli il processo partirà a dicembre è un processo come dire cerchiamo giochiamo la carta estrema per cercare di fermare il il candidato vincitore insomma no giusto o ci sta come ragionamento sicuramente è una nazione di disturbo serve semplicemente per dare armi alla propaganda per poter parlare di qualcosa e questo è tutto anche perché trump fa audience quindi fa comodo anche i media mainstream soprattutto quelli sinistrorsi e questo è tutto questo processo dei quattro che hanno costruito intorno a trump è il più debole di tutti quindi non andrà da nessuna parte secondo le stime di tutti gli esperti anche quelli che non sono favorevoli a trampe che sono dichiarati contrari a tram quindi non mi aspettare grandi cose salvo il fatto che era molto confusione ossia stiamo andando verso un'operazione di propaganda di dimensioni enormi che non si è mai vista mondiale e ne vedremo le conseguenze in tutto in tutto l'occidente non solo in occidente quindi prepariamoci anche per questo che ho pubblicato di video sulla guerra psicologica e ne pubblicherò ancora perché stiamo entrando in una fase in cui non si capirà più niente non si capirà più niente quindi bisognerà mantenere proprio la barra dritta in particolare e le mani sul portafoglio soprattutto perché il portafoglio ve lo stanno fottendo esatto e infatti li sto li sto guardando in questi giorni con grande attenzione i tuoi video sulla guerra psicologica lo sto guardando con grande attenzione il video sui bitcoin quella è una rubrica è una gli abbonati al canale mazzoni news punto com e voi accennare un attimo anche perché quelli ne avevamo già parlato ne avevi già parlato all'inizio della nostro appuntamento di questa intervista e piaccia o non piaccia bisogna farci bisogna farci conti su con con il bitcoin insomma beh ormai sta diventando un argomento centrale è l'unico strumento finanziario che finora abbia resistito tutti gli attacchi sia politici che finanziari e quindi ritengo sia indispensabile che una persona conosca poi può decidere o meno di adottarlo può decidere o meno di fare le proprie scelte come preferisce però ormai non credo che sia imprescindibile per questo che ho creato un contenuto un contenitore che sto aggiornando anche con molti contenuti che riguardano l'economia generale quindi non soltanto bitcoin perché si può capire bitcoin solo se capisce l'economia generale è certo altrimenti è quello bisogna sempre avere il quadro complessivo altrimenti perdi di vista appunto la situazione in generale e si creano malintesi uno magari poi alle alle brutte sorprese siamo in conclusione io ti ringrazio molto roberto per sempre preziosi aggiornamenti so che noi tutti siamo quindi tranquilli che possiamo contare nel caso succedano noi abbiamo appuntamento mensile ma se succedono delle cose degli eventi particolari possiamo contare sulla tua analisi sulla tuo intervento quindi questo ci rende ci rende più tranquilli diciamo del nel senso che possiamo sempre avere la visione generale non perdere il filo del discorso grazie noi ci diamo appuntamento al mese prossimo roberto mazzoni collegamento dagli stati uniti grazie ancora roberto arrivederci grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori